C'è grande preoccupazione tra i residenti di Tregozzano, questa è la strada vicinale alle nostre spalle, la buca profonda a 3 metri è molto preoccupante perché è impossibile passarci, i residenti sono preoccupati, sono circa 6 famiglie che sono bloccate. I tecnici di Nuove Acque sono venuti anche stamattina come ieri, come vedete hanno già iniziato a fare i lavori per il passaggio pedonale, la situazione è un po' complicata perché ieri è stato detto che era un problema fognare, oggi invece sembrerebbe che gli stessi tecnici non siano sicuri. Non è questa, non è la prima volta che succede, anni fa è successo anche più qui a Valle che c'è stato uno sprofondamento identico di questo, la motivazione non si sa com'è. Ma l'altra volta chi li fece i lavori voi? No, no, sono sempre fatti i lavori della manutenzione del comune. Siamo 6 famiglie di qua, siamo in chiodati qua dentro e loro non si sono neanche preoccupati. Loro chi? Loro, il comune, le nuove acque, i vigi urbani, i vigi del fuoco, ieri c'erano tutti qua, c'era una marea di gente. I tecnici di Nuove Acque hanno detto che faranno un passaggio pedonale. Stamattina, ieri sera no, ieri sera assolutamente ci hanno lasciato così perché stamattina mio marito ha mosso le acque un po'. Però dicono sempre i tecnici di Nuove Acque che non sanno se si ha un problema fognare. Ieri hanno detto che era la fogna, ci sono i segni in terra. Ha messo il robottino, hanno visto e hanno detto che è rotta. Oggi hanno cambiato idea. Allora il comune dice che dovete fare voi, voi dovete dire i vigi urbani, poi i vigi urbani dicono il comune, il comune dite voi. Sta di fatto che qui siamo 6.